E facciamo un'altra? Sull'Italia però, via via, sull'Italia Ok, qua dove sta? Maestre Io ti avrei detto Padova Raga vi giuro, sembra Piazza Mercato di Domodossola Metti Domodossola No, 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 non è Domodossola, però vi giuro All'occhio mi è sembrato un sacco Piazza Mercato di Domodossola Cioè, è Simile a un casino Qua dicono subito Lucca Via Galileo Ferraris Teatro Civico Però vedi Vercelli Lo sapevo perché Sul Teatro Civico non c'era la C aspirata Ma? Eh, io ne so di queste cose ragazzi Vercelli, Vercelli, Vercelli Vercelli, dove cazzo? Qua sta Vercelli Le tue zone Vercelli Le passi Questa qua è una piazza Quindi sarà Esattamente al centro O vicino al teatro Monumento a Cavour Sarà questo? Sì, dai, butta lì Vento, vento, dai Dai, 17 metri Mi potete A 5.000 Oddio L'abbiamo smarfata qua Via San Siro Wake up E ora piacere Signora c'è un uomo per lei Chiesa di San Sinto Anche io ho letto Sisto Sisto Esattamente a video Vabbè, stica Chiesa di San Sisto C'è un paesino qua vicino che si chiama San Sisto Ma non è Non credo che sia quello Ma io mi immagino, no? La macchina di Google che è passata con me Sassari Sassari? Eh, vedi? Pito l'ho Ma io F4 Però aspetta perché il fatto è Sotto qui nightmare per strada Il fatto è Questa casa qui la vendevano dal comune Cioè La cosa è nel comune di Sassari Vabbè, vede se poi effettivamente qui siamo a Sassari o meno Eh sì Perché è info Sassari Poi c'è anche l'aeroporto, le indicazioni Sanzisto, guarda c'è Sanzisto Dov'è? Eh, zoom di meno Ah lì, Sanzisto, cattedrale di San Nicolo Cattedrale di San Nicolo Sopra c'è il quartiere Sanzisto Esatto Ok Quindi presumo che sia la chiesa di Sanzisto E come si chiamava? C'era mica una chiesa? Di Sanzisto Chiesa di Sanzisto Sgru Vediamo se troviamo un'altra cazzata Tipo vediamo O li usano Tipo questa che cazzo è? La stazione? La stazione di Sassari Ecco la stazione FS E qui in giro allora Noi ci siamo arrivati da di qua, giusto? Sì signora Quindi è in zona qua Carrera Longa, se non mi ricordo male l'avevamo trovato, no? Sì, Carrera Longa c'era Carrera Longa Dove lo vedete? A quanto punto dove hai messo? C'è il puntatore proprio vicino, a destra Ah, Carrera, ok Allora ti posso essere qua Vedrai Però aspetta Gigi, 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 Gigi Signora Oh vedi? Sanzisto Chiesa di Sanzisto Puttana è vera qua Vabbè Ma perché non c'è fuori il simbolo della croce? Perché Che bovadoizzo Ma che palle Perché sono quelle che si chiese Un po' Perché non si inculla nessuno Hai capito? Eh Oh carina E qui Siamo proprio in culo In vera Qui siamo proprio nella merda Vignesi Ma che veneto Signora Ma pensa C'è un cane per lei Oh ma ci hai sdoppiato Ma Signora Questo qua è Spider-Man Che guarda l'altro Spider-Man Signora c'è un cane Chi che aveva fatto quel film lì di merda? Eh La cosa L'Ori del Santo L'Ori del Santo Bravo James Dean Bar, Caffè Villa Tucci Scusate Non so perché mi ha fatto ridere Un bar che si chiama James Dean 0871 Che prefisso è? Milano Non è Milano 0871 Aspetta Perché Milano conosci La Milano bene 0871 Comune di Cricchio Dov'è Cricchetto? 0871 È provincia di Chieti Il prefisso Il tuo cazzo sta a Chieti In provincia di Chieti Chieti è Abruzzo Nero Ma questo di Google è passato col gatto nero davanti Ma che è? No dai È bianco e nero Io voglio chiedi a tipo Un posto dove c'è Napoli E contiamo quante persone sono senza casco No ma non Questi Il trattore Discriminazione Discriminazione Cricchio Toll Meccanosa Lo cazzo sta a Chieti No serio È in Abruzzo 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 E ci sei sopra Bravo Eh no ho capito Ma dove sta Cricchio? Cricchietto Adesso Villa Pini Villa Pini Attenzione Noi stiamo cercando Villa Tucci Villa Tucci Villa Olivetti Villa Olivetti Villa Maia Magna Tollo 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 Aumenta Villa Tucci sotto Villa Tucci sotto Parca ferita James Dean Aspetta che mettiamo Mettiamo il punto giusto Un fratello James Dean Allora Questa mi sa che è proprio Via Villa Levati Però forse è un po' fuori E qui c'è il bar James Dean Un po' lontano Ma James Dean No era indietro Il bar James Dean Era a destra Ha clicciato su una via prima Mollo Io Cricchio Eh no è qua è qua è qua è qua Guardi che più avanti qua c'è James Dean A destra Mi ricordo il clima Sì sì il biomasso Il biomasso bravo bravo che ne sei un tot Sì il biomasso Mamma mia il biomasso Eccolo qua Eccolo qua c'è James Dean Cosa qua No no l'abbiamo passato James Dean L'abbiamo passato l'abbiamo passato L'abbiamo passato L'abbiamo passato L'abbiamo passato Ho visto pure il cartello Eccolo 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 James Eccolo qua Ah era di fianco al clima proprio Quindi qua James Dean Qua il clima Terebbe indietro il puntino Mollo E' un bel po' fin dietro Secondo me era tipo qua Quanto ci fai? Vai E' l'incrocio Vai porto Questo è Dolomiti Non ci si muove più Hotel Villa Blue Potrebbe essere Guarda sulla bandiera se c'è scritto qualcosa Potrebbe essere tranquillamente Goizia questo Ma come goizia Cortina da un pezzo Cortina Cerca il centro militare Cortina centro militare Ingrandisce, è piccolo il centro militare Sono uno schifo No ma anche Villa Blue Sporting Hotel Villa Blue La strada prima di andare al golf Un po' più in basso C'è tipo... No no sei troppo in basso Ah ok Ma c'è il golf Prima del golf ci doveva essere tipo un Un robo di moto Blue ce l'hai lì sopra Sei sopra Hotel Villa Blue Con un puntatore Ah è questo? Perfetto Easy Era qua Mamma mia quei tre punti di merda Di merda Guardia di Finanza Mamma mia Stavamo lì eh Era quello C'era già solo motore col baffo Che barba tienes No Che barba tienes Lo so io dove No è E A me si È la parte di Della Calabria Dove c'è il coso tra Messina e Calabria Potrebbe essere No non è questo Ma la motore No non è questo No non è questo No non è questo Non è questo Non è questo Però comunque si è È un punto dove sono gli attracchi Dei Dei Palemmo Palemmo No Palemmo No non è Palemmo È coso È come cazzo si chiama No in realtà mi sa che È quello che hai detto tu Andre sai Eh sì perché è questo qua grande forse No te lo dico perché ci sono stato C'ho dei ricordi molto nebbiati Anch'io Però per andare in Sicilia Sì sì è questo È questo C'è il palazzo verde È questo È questo È questo È questo Sicuro No però Non la vedi così vicino Oddio forse sì però Ciao fra abbracciati No 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 Stiamo rappresenti No perché devi passare sotto un sottopasso Per arrivarci quindi non è questo Dalla Dalla chat Taranto Bravo Taranto Ah ci sarà il coso È dove è lì Il porto Eh sì Può essere Aspetta l'attimo Attenzione Attenzione Dicono Io vorrei essere un attimo Un attimo un po' più convinto Dice Wellhead che c'è stato lì È Palermo È il porto dei traghetti di Palermo Un altro dice Isola d'Elba Fidati Effettivamente è worldwide Fidati Isola d'Elba ci abito Isola d'Elba? Trastatacchi No c'è scritto centro ufficio Alba a sinistra No no Trastatemi Ha detto è Monza ci abito Hanno aggiunto il corpo Monza, Palermo Dietro c'era scritto Portoferraio si è Elba allora Penso se mettevamo Tarant Ci facevi tipo Zero punti Però dove? Portoferraio c'è scritto La rotonda qua La rotonda da coppe 5k 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 Sì 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 Io ne farei un altro però Ah sta io vado a dormire Io sto riguardando un botto No Non Sì 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 Grazie a tutti